6 agosto, trasfigurazione del Signore, la potente preghiera alla Somma Trinità per ringraziare di aver salvato Gesù. Il giorno 6 agosto di ogni anno festeggiamo la ricorrenza della trasfigurazione del Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, che apparvi ad alcuni discepoli ed esattamente a Giacomo, Pietro e Giovanni, sul Monte Tabor, con uno straordinario splendore della persona e uno stupefacente candore delle vesti. Con questa preghiera non facciamo altro che ringraziare Dio per averci donato il suo unico figlio e per averlo salvato dalla morte eterna, dall'inferno, facendolo risorgere e rendendolo il salvatore di tutti noi. Davvero una preghiera meravigliosa per ottenere grazie e misericordia dal Signore, onorando suo figlio Gesù. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti rendiamo grazie, Somma Trinità. Ti rendiamo grazie, Vera Unità. Ti rendiamo grazie, Bontà Unica. Ti rendiamo grazie, Suavissima Divinità. Ti renda grazie l'uomo, tua umile creatura e tua sublime immagine. Ti renda grazie perché non lo abbandonaste alla morte, ma l'hai strappato dall'abisso della perdizione ed effondi a torrenti su di Lui la tua misericordia. Egli ti immole il sacrificio di lode, ti offra l'incenso della sua dedizione, ti consacri olocausti di giubilo. O Padre, ci hai mandato il Figlio. O Figlio, ti sei incarnato nel mondo. O Spirito Santo, eri presente nella Vergine che concepiva. Eri presente al Giordano, nella Colomba. Sei oggi sul Tabor, sulla nube. Trinità intera, Dio invisibile. Tu cooperi alla salvezza degli uomini, perché essi si riconoscano salvati dalla tua divina potenza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. Grazie. Grazie.